buongiorno ragazzi in anteprima vi presento qui nel punto pizza zazà di Pietri Selvacanni da Casalotti guardate un po' fatta con le papa cream una crema al limoncello abbinata fatta dal nostro pizzaiolo Maman abbinata con una burrata salmone rughetta questa la facciamo sensazione alcolica quindi al limone spettacolare o la crema al limoncello ragazzi non so se rendo come gli età spettacolare qui passateci a trovare nel frattempo ogni volta introdurremo una una papa cream una crema per pizza zazzà nuova nel frattempo vi facciamo vedere il banchetto che ha preparato il mattino presto e quindi siamo ancora le prime pizze però questo il banchetto che ha preparato ma non abbiamo ma noi dice un pochettino qui che cosa abbiamo un colsonzola e non ci qua ci abbiamo fritti zucca alici una bufala pomodori secchi fior di latte questa è un olio del peperoncino che non dovremmo ancora metterci sono i fili di peperoncino sempre papa cream e poi abbiamo una zucca con la pancetta fatta da noi una crema sempre fatta da noi e nulla così via discorrendo questo è qualcosa un po più di semplice per mattina presto pian pianino andremo a far fiorire questo banco ragazzi quindi vi salutiamo pizza zazzà salotti come tutti gli altri punti che stanno per aprire e gli altri che ci abbiamo aperto seguiteci sempre la novità la facciamo rivedere crema al limoncello ragazzi o crema al limone le papa cream pizza zazzà ragazzi un abbraccio seguiteci